Un saluto a tutti i visitatori del nostro progetto. Siamo Vincenzo Rucco e Vincenzo Runga e vi presenteremo il programma di studi della classe terza B dell'Istituto ITIS Francesco Giordani situato in via Caravaggio Napoli. Prima di iniziare volevamo ringraziare i professori che ci stanno seguendo con tanta pazienza nel corso di studi e che ci danno la possibilità di avere piattaforme come quella che andremo a presentare. La bottega di apprendistato cognitivo è una piattaforma online che ci permette di condividere dei file multimediali e documenti di qualsiasi tipo. In questo ambiente i professori Michele Ioffredo e Luigi Variale ci permettono di studiare a casa come a scuola, avendo degli approfondimenti su tutti gli argomenti studiati in classe nella sezione informatica. Nella bottega troveremo anche altri link di altre materie che si studiano nel nostro istituto, in particolare noi vedremo la sezione informatica. Come possiamo vedere abbiamo condiviso vari video su YouTube che ci permettono di avere una visione degli argomenti che andiamo ad affrontare. Come possiamo vedere all'inizio dell'anno scolastico sulla bottega abbiamo messo un link che ci permette di simulare la macchina di touring. Questo ci ha permesso di capire quanto sia importante la logica dell'algoritmo nel nostro percorso di studi. In particolar modo andremo ad affrontare la programmazione del linguaggio Java. Essendo un codice multipiattaforma ci permette di poterci lavorare in qualsiasi ambiente noi ci troviamo. Windows, Linux, Mac, eccetera. Troviamo infatti una mini presentazione del linguaggio per chi muove i primi passi con questo ambiente di sviluppo. Nella bottega possiamo trovare anche la simulazione dei compiti in classe che ci permette di esercitarci affinché la risoluzione dei problemi ci venga fuori più facilmente.